Signora, signora con la giacca rossa, la gaunte fa della... eccola! E ti sente su tutto! Ma ti dica, che cosa ha bisogno, signora? Prego? Cosa? Che dice? Tutti, venga qua, signora, venga qua! Venga, venga, signora! Venga, che ne facciamo un po' di... Venga qua, signora, venga! Presto, presto! Venga, signora, venga! Venga, 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 ecco, dica la sua da giù, da lì, da lì, 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 dica la sua! Allora, io amo tutti questi ragazzi giovani, tutti... Metti il microfono qua! Scusi, signora, ma che vestire fa? Tutti questi ragazzi giovani, li amo tutti, lei è sempre che li butta giù, tutte le notte! Ma chi, lei, chi? La signora, questa qui! Ma la signora, ma i onchi! Venga qua, signora, venga piccati! Basta! Ah, la Lucarelli! E poi, io aspettavo tanto Urso per me, Umberto! È venuto! Certo! No, Umberto, Alberto! Scusi, signora, posso dirle un po' di... Lei ha ragione, ma però quello che noi diciamo... Non parla di te, parla della Lucarelli! Ma la Lucarelli dice delle cose giuste, signora! Allora, ebbè, è vero, è vero! Ebbè, perché voi, allora, chi non fa questo mestiere, che è un mestieraccio, perché lei si prende in mano e dà dei consigli a un ragazzo che può sbagliare, pensi che fatica si fa? Allora, quello che voglio dire, uno lo fa per aiutarli, perché Nigioti, lo sai, io non direi mai una cosa che nuoci a Nigioti! Beh, no, ma la Lucarelli fa gli appunti che sono giusti! La Lucarelli sta bene, sta bene, con quella che è... No, ragazzi, sì! Però la Lucarelli fa... Oh, dai! Che pazienza! Allora, eccola qua! Allora, lei sta bene! Metta giù il dito, metta giù il dito, metta giù il dito! Scusi, scusi! La Lucarelli... Signora, il microfono così! La Lucarelli sta bene? Facciamo, ascoltiamo... Ascoltiamo la signora, ascoltiamo, prego! La Lucarelli sta bene? Con Tina e basta! Con chi? Con Tina! Con Tina! Tina è quella che critica sempre tutti! Ma chi è Tina? Chi è? Cinque! Ma chi è Tina? Ma Tina Cipollari! Ma io amo Tina Cipollari e Gemma! Io le amo! Io amo Gemma! Lei sta bene con Tina Cipollari! Basta! Sposata, signora! Signora, lei che mestiere fa? Che mestiere fa lei? Signora! Sono in pensione, non mi vede pensione! In pensione! Che mestiere faceva prima? Che mestiere faceva? Casa Linga! Sono 50 anni che sono sposata! La mamma e la nonna! Perfetto! Ma io vede... Basta! Bene, grazie! Andiamo avanti con le persone! Non c'è il suo lavoro che io faccio il mio! Certo! Ma non criticare sempre i giovani! Io faccio la giornalista di tuo nonno! Faccio la giornalista, signora! Lei faccia il suo mestiere! Io faccio il mio mestiere e lei... Grazie, signora! Io faccio il mio mestiere! Io faccio il mio mestiere! Grazie.